eccoci buongiorno buongiorno dottor mori buongiorno buongiorno a tutti massimiliano tanto ormai ci conosciamo ci diamo del tu allora dottor massimiliano mori psicologo e sessuologo di psicura.it il primo portale di psicologia al bisogno online con professionisti verticali su diverse competenze e appunto il dottor massimiliano mori oltre a essere come detto psicologo è specializzato in sessuologia e mi sembra carino ricordare che tendi a definirti lo psicologo della sessualità giusto per distanziarsi dall'idea comune che il sessuologo tratti il sesso in aspetti meccanici tra virgolette o procedurali invece giustamente tu ti occupi con maggior verticalità sugli aspetti psicologici della sessualità del sesso e delle sfere collegate a questo a questo argomento. A 360 gradi esatto una visione a 360 gradi della sessualità. Perfetto fatta questa breve introduzione oggi questa chiacchierata divulgativa la vogliamo incentrare su una notizia recente che poi ci permetterà di fare varie digressioni e commenti e cioè quella che il più famoso farmaco per ristabilire o aiutare la funzionalità maschile e cioè parliamo senza senza mezzi termini del Viagra. È stata scoperta una correlazione nel contrasto delle problematiche legate invece a una patologia ben più preoccupante che è quella dell'Alzheimer. Sulla base di questa notizia chiaramente adesso Pfizer che in questi giorni, questi mesi è più nota per il fatto di essere una delle due colossi farmaceutici che produce i vaccini anti-Covid ma è arrivata alla notorietà sicuramente prima con il Viagra. Farà tutti gli studi clinici per verificare queste percentuali per verificare questa correlazione, però questa notizia che è rimbalzata sui giornali nei giorni scorsi, nelle settimane scorse ci offre lo spunto di parlare di sessualità e terza età. Esatto, esatto. Quindi la prendiamo come appiglio per andare a parlare di un campo molto più vasto. In attesa che faccio nel vaccino contenente il Viagra perché serve contro l'Alzheimer. Oddio, esatto. Beh, allora facciamo giusto perché ci ascolta se magari non ha avuto modo di leggere la notizia o di sentirla, è abbastanza recente di qualche giorno fa, hanno visto che l'utilizzo del principio attivo il sildenafil che è appunto quello che è all'interno di questa famosa pillolina blu, nel 69% dei casi sembra contrastare poi l'arrivo della malattia dell'Alzheimer. Ovviamente è una correlazione, non è una causa-effetto quindi non possiamo dire, ok, chi prende la pastiglia blu sicuramente non avrà più l'Alzheimer, non lo svilupperà. dovranno partire ovviamente tutti adesso dei percorsi di ricerca e degli studi per approfondire però sicuramente è una cosa vantaggiosa in quanto iniziamo a avere un qualcosa in più per contrastare e gestire questa malattia, ok, questa malattia degenerativa che purtroppo colpisce molte persone, ok. come hai detto tu Pfizer, in questo periodo ha fatto da padrone sia sul discorso vaccini e ovviamente sappiamo che è stato il principale produttore poi della pillola blu tanto da utilizzarla proprio come logo, perché se ci ricordiamo il logo della Pfizer per tanto tempo è stata proprio la pastiglia del Viagra e la cosa interessante che comunque fa sorridere è che il Viagra non è nato per fare quello che sta facendo adesso era nato per contrastare o comunque per gestire delle patologie cardiache se non ricordo male o comunque della circolazione poi se c'è qualche medico spero sia clemente con i miei termini esatto, però nell'utilizzo è stato visto che aveva questi altri effetti possiamo dire collaterali ma non così negativi non indesiderati esatto, e è stato poi commercializzato sotto questo aspetto consideriamo che il trial principale, quello che è stato fatto a livello cardiaco circolatorio era per di più fatto sulle donne quindi era per una malattia principalmente femminile come pacchetto di base e quindi abbiamo visto che poi da una cosa siamo riusciti a arrivarne a tutt'altra infatti il colore azzurro mi pare narrino le cronache sia stato aggiunto dopo esatto, esatto, per differenziarle, per far capire l'utenza meglio che doveva utilizzare il farmaco è sempre divertente perché poi uno pensa sempre a quel discorso ok prendo la pastiglia, oddio chissà cosa succede soprattutto adesso se bisogna collegarla anche un discorso di prevenzione dell'Alzheimer allora tutti i giorni una pastiglia così sono sicuro che mi diverto da un lato gli effetti non indesiderati collaterali esatto, esatto, mi diverto da una parte e mi prevengo dall'altra potremmo dire povere partner a questo punto che se iniziamo a utilizzare il farmaco in maniera indesiderata no, ricordiamoci che i farmaci non vanno mai presi comunque alla leggera che vanno presi solamente quando ci sono prescrizioni mediche giuste e una cosa che è del settore, lo sa magari chi non è del settore non lo conosce questi farmaci funzionano solo se poi c'è un desiderio di partenza quindi non è proprio una cosa meccanica quindi se io lo prendo e poi la serata non si va a concretizzare diciamo che non trovo l'effetto che penso di avere da questo farmaco quindi deve sempre partire un impulso di desiderio mentale per farlo partire però come ci siamo detti all'inizio questa notizia fa ragionare un po' sul discorso della sessualità dopo una certa età, ok? adesso si definisce la terza età sopra i 65 anni e sappiamo da studi del Censis del 2016 comunque che più dell'80% delle persone sopra i 65 anni ha ancora dei rapporti sessuali e quindi è attiva a livello sessualmente diminuisce un pochino di più sopra i 75 ma non tanto per la voglia ma proprio per le problematiche magari fisiche per determinate patologie che non lo rendono più così semplice, ok? però la cosa carina da sottolineare è che c'è ancora questa voglia nelle coppie di avere una vita intima, ok? perché noi purtroppo a livello sociale, a livello di cultura tentiamo a nasconderci, a chiuderci sotto quella parte lì perché sopra una certa età il sesso non si fa ma cosa anche peggiore noi tendiamo a livello culturale ad attribuire la sessualità e il sesso solo a determinate categorie i belli, quelli belli, muscolosi, fatti bene possono fare sesso tutti gli altri se ci pensiamo ci fa schifo per esempio perché non colleghiamo la sessualità alla vita quotidiana la colleghiamo molto spesso a le pubblicità che ci vengono fatte vedere alla televisione determinati film che girano su determinate piattaforme quindi filmografia pornografico, ok? tutto quel genere lì molto spesso sono modelli, sono giovani, sono fatti bene un bel fisico e quindi socialmente noi tendiamo a non valutare a non vedere la sessualità in una certa età, ok? ma c'è e direi fortuna che c'è Ivan perché è una cosa veramente importante e fondamentale se vogliamo ottenere un'idea di coppia, ok? e di non diventare una famiglia diciamo così più a fratello e sorella, ok? ma proprio dei partner possiamo riassumere il concetto che la sessualità comunque fa parte della vita individuale delle persone, quale che sia la loro età e in particolare nella coppia che procede lungo un cammino duraturo e prolungato cambia nel corso del tempo e nell'evoluzione della coppia l'importanza, la prevalenza, forse anche la frequenza però resta comunque uno degli aspetti fondanti della relazione esatto, anzi andando avanti con l'età si vede che si dà molta più importanza all'intimità legata alla sessualità cioè proprio la voglia di differenziare l'atto con l'intimità esatto, proprio la voglia di stare insieme da soli abbracciati nel letto tutta quella parte anche solo di tenersi per mano che non è che non è sessualità è sempre sessualità anche questa perché ovviamente noi tendiamo sempre a definire è un modo diverso di leggere la sessualità un modo diverso che cambia proprio anche con l'età esatto, intimità cioè proprio si vive al meglio la sfera intima e la voglia di stare insieme anche perché ci sono anche alcuni vantaggi che si presentano in quest'età per esempio le coppie che hanno avuto figli quindi si in teoria presume che sui 65 anni i figli non ci siano più a disturbare le dinamiche quotidiane quindi o siano fuori casa o comunque abbiano un'età che sono abbastanza grandi per essere autosufficienti e quindi la coppia ha più tempo da dedicare a se stessa possono avere per esempio chi è fortunato e ha avuto la possibilità di andare anche in pensione più vacanze, la possibilità magari di viaggiare di vivere più serenamente determinate situazioni quindi c'è più la voglia di giocare riscoprire non un routine non una performance appunto ma un gioco una sessualità giocosa data di intimità di voglia di stare insieme di sperimentare col tempo libero questi sono i vantaggi possiamo dire di una certa età ovviamente la coppia deve essere però consapevole come dicevi tu che andando avanti con l'età cambia la parte della performance ok e quindi deve essere consapevole che tutti invecchiamo perché questo fa parte di tutti ci sono delle modifiche fisiche ma fortunatamente se si ha diciamo una certa apertura una certa conoscenza si può riuscire a contrastare bisogna solamente ragionare in termini diversi quindi concedersi un pochino più di tempo perché in teoria lo abbiamo perché se non abbiamo tutte le dinamiche possiamo dedicare più tempo all'atto proprio vero e proprio dare più tempo a noi o alla partner ok cioè perché ci sono componenti fisiche come potrebbe essere un deficit erettile o una difficoltà a raggiungere una lubrificazione adeguata per la donna che ovviamente hanno bisogno di più tempo e diciamo può essere aiutata si può integrare la situazione anche con l'utilizzo magari di determinati lubrificanti per la donna per evitare il dolore per aiutare certe situazioni o come abbiamo detto all'inizio l'utilizzo della famosa pastiglia blu per l'uomo per riuscire a essere più più prestante più attivo in quei determinati momenti quindi viviamo in un periodo che ci aiuta sotto questi aspetti ecco esatto quindi giustamente abbiamo una nuova modalità di approcciare anche gli aspetti della sessualità e del sesso per noi della terza età o quelli che si stanno avvicinando a questa fase diversa della vita perché se noi pensiamo ai nostri nonni a 65 anni erano intanto non era facilissimo che arrivassero a 65 anni o perché l'età media era sicuramente più bassa perché la fatica i lavori erano più usuranti la salute diciamo la medicina e quindi la tutela della salute non permettevano di contrastare una serie di malattie quindi tanti dei nostri nonni a 65 anni non hanno avuto la fortuna di arrivare noi abbiamo tutta questa serie di fortune quindi è nato sta nascendo sta crescendo una fetta di popolazione che si trova ad affrontare delle situazioni legate alla sessualità all'intimità di coppia con la fortuna se vogliamo considerarla da questo punto di vista che ci sono degli aiuti sono stati sdoganati degli aiuti sostanzialmente io ricordo le prime volte che si parlava di Viagra forse vent'anni fa a Spanne quindi sicuramente quindici anni fa era quasi una vergogna dover che l'uomo ricorresse a determinati aiuti perché era ammettere tra virgolette la necessità di aver bisogno di un aiuto i lubrificanti esisteva banalmente la vaselina che però si vendeva solo in farmacia figuriamoci la vergogna di andare a chiedere al farmacista che spesso ci conosceva da quando eravamo ragazzini andare a chiedere un prodotto del genere oggi i lubrificanti sono di quindicimila tipologie differenti sono venduti a supermercato sono acquistabili online arrivano direttamente a casa senza neanche bisogno di esporsi con la cassiera per cui ecco c'è la fortuna di avere questi questi aiuti tecnici meccanici che però decisamente possono aiutare a attrarre il massimo del piacere limitando quelle che sono appunto le problematiche legate all'età sia in ambito femminile sia in ambito maschile ma sì sicuramente come dici tu l'online poi ha aiutato molto perché ha tolto tutta quella parte di vergogna di dover come dici tu confrontarsi anche solo con la cassiera per esempio non tutti hanno il coraggio avevano il coraggio di entrare in un sexy shop per acquistare determinate cose poi sopra una certa età facevi magari anche poi la figura di quello un po' maniaco ok sì perverso lo strano esatto quindi sicuramente poter acquistare dovendo mettere solamente un cognomo un indirizzo in pacco anonimo ha aiutato tantissimo non solo è nella terza età perché anche tantissimi giovani hanno potuto scoprire certi lati giocosi della sessualità proprio perché l'anonimato ha coperto tutta questa parte qua ecco diciamola più sulla parte giocosa perché farmaci online non bisogna mai acquistarli cioè nel senso fare molto attenti oppure prenderli solo da di solito sono fatti assolutamente su ricetta medica ok proprio per quello perché purtroppo ci sono anche tanti ragazzi giovani questo lo dicono in ricerca che con la scusa del dover arrivare alla prestazione perfetta ok complice la società e tutto quello che abbiamo detto prima acquistano e vogliono utilizzare già il viagra in giovane età non va bene ma non tanto a livello di salute ok diciamo che non è tanto per un discorso di farmaco ok ma è proprio per un discorso magari più di dipendenza ok il dire non posso più avere un rapporto se non utilizzo il farmaco perché non sono adeguato ho bisogno di appoggiarmi una cosa chimica e questo è deleterio perché poi rovina a livello mentale il desiderio e la propria autostima si rafforza le convinzioni di inadeguatezza esatto e rafforza l'abbinamento la dipendenza senza l'aiuto meccanico farmacologico non si è in grado di dove ma guarda per assurdo la terza età quindi dai 65 diciamo così lì in poi ma anche dieci anni prima che non hanno avuto quei confronti così forti in età giovane con la pornografia e con i modelli della sessualità hanno volendo vedere meno problemi come detto c'è più uno smacco a prendere una pastiglia perché ce la devo fare da solo ok mentre i giovani nati purtroppo le nuove generazioni nascono con telefoni con internet a portata di mano si confrontano troppo spesso con una sessualità estrema dall'altra parte ok quindi se da una parte non c'è la conoscenza dall'altra non c'è la comprensione della realtà quindi si confronta con modelli estremizzati e stereotipati che chiaramente ci vedono sempre penalizzati insomma esatto al di là della simpatia del buon Rocco sono pochi i maschietti che possono competere con con certi modelli e se il messaggio implicito è che se non sei a quel livello non sei adeguato è chiaro che ci schiantiamo tutti contro un muro guarda il messaggio che io dico sempre che deve passare è che quello che noi vediamo alla televisione su internet sui siti indipendentemente dalla nostra età quindi che io sia adolescente giovane adulto adulto terza età quello che io vedo è puro intrattenimento non è costruito costruito per intrattenere bravissimo punto quindi se ho 65 anni non posso guardare video di 65 anni che fanno prestazioni assurde pensando che quella sia la normalità ok quello è puro intrattenimento poi la realtà è quello che facciamo nella nostra intimità è tutta un'altra cosa perché la sessualità non è solo l'atto faccio un paragone che è un paracarro ma è come se noi dovessimo misurare la nostra capacità di guidare la moto guardando Valentino Rossi esatto è chiaro che lui è lì in televisione pagato giustamente delle cifre abnormi perché è il numero uno inavvicinabile impossibile da imitare ma se noi vivessimo il condizionamento che se non guidi come lui non sei capace di guidare la moto moriremmo tutti alla seconda curva facendo questo parallelo nell'ambito della sessualità dell'estetica del modo di vestirsi ecco bisogna avere la capacità di prendere le distanze e capire che quello è un modo di eccezionalità ecco esatto e funziona proprio perché sono eccezionalità perché esatto esatto facessero il gran premio dove andiamo a guidare la moto io e te avremmo tre spettatori esatto lo stesso discorso se dovessimo fare i tuoi parenti i miei parenti ma neanche tutti perché dopo un po' si stufano sì ma neanche tutti perché c'hanno altro da fare esatto infatti quando io poi concludo con le coppie soprattutto di una certa età del 65 non è per offendere certa età è proprio per dare una definizione in quella faccia di età in quella faccia di età bisogna sempre lavorare su il concetto della sessualità più io riesco a staccarmi dal modello e lo vivo per quello che sento più riuscirò a godermi anche nella terza età ma comunque anche a 50 anche a 40 perché la sessualità bisogna costruirla sulla propria vita non è che da un giorno all'altro magicamente compare riuscirò a godermi questa situazione per molto tempo e quindi avere una buona sessualità una buona vita intima indipendentemente da tutto anche in presenza di alcune patologie che sappiamo che andando avanti con l'età possono comparire ma anche solo prendere credo prendere sereno serena accettazione del fatto che il passare del tempo produca degli effetti anche sull'estetica del nostro partner e quindi staccarci dall'estetica della subrettina di 19 anni che danza in televisione perfetta dove la forza di gravità non ha ancora prodotto i suoi nefasti effetti e allo stesso tempo al contrario che la donna possa considerare naturale e quindi non sgradevole o disdicevole nel fatto che il partner abbia un po' di effetti della forza di gravità sulla muscolatura sulle rotondità è una cosa che permette di mantenere acceso il desiderio di farlo accendere di fronte a quella estetica e non esclusivamente andare alla ricerca di un'estetica di perfezione che a 50 60 70 anni è assolutamente impensabile per quanto uno ci possa tenere si tenga in forma mangia attentamente vada in palestra la forza di gravità vince inevitabilmente ecco per cui anche da questo punto di vista forse c'è proprio bisogno di una di un'educazione di una di una presa d'atto ma serena non remissiva non di rimpianto esatto bisogna crescere anche sotto quell'aspetto lì perché non è che si smette di crescere come si invecchia si continua a crescere la cosa importante è proprio quello che ti dicevo prima questa consapevolezza va creata già all'inizio della coppia deve essere un percorso di costruzione costante è chiaro che qualcuno può anche essere rimasto indietro però si può recuperare bravissimo in quel caso lì non solo c'è tutto il tempo e la modalità per recuperare ma ci sono anche dei professionisti che possono darci una mano nell'indicarci la strada gli esercizi le attività che permettono di recuperare il tempo perduto nell'adeguarsi e nel prendere consapevolezza della propria condizione della condizione del proprio parte ma anche a livello di coppia nel senso per esempio consulenze di coppia legate a una sessualità di un'età comunque un pochino più avanti aiutano tantissimo anche per ricreare una comunicazione che magari prima non c'era perché si andava in automatico perché la performance funzionava esatto si andava tutto in automatico è andata bene per vent'anni diciamo così poi è andata bene sempre tra virgolette però diciamo che non ci si è mai lamentato più di tanto per quegli ultimi vent'anni e adesso così magicamente cambia tutto qualcosa scrinchiola diciamo ma guarda brutalmente anche nel senso a livello fisico non serve andare in patologie esagerate che per carità anche quelle possono intromettersi sicuramente per l'aspetto che abbiamo di noi stessi per quello che abbiamo paura di dimostrare agli altri ma anche brutalmente una protesi a lanca ok che devo rifarla perché ho problemi a livello intimo può cambiare tantissimo perché le posizioni non sono più quelle inizio a capire che sono vecchio quindi non mi piaccio più cioè già solo una cosa motoria diciamo così prendo atto tristemente di una mia avanzata età e quindi magari posso immaginare che il partner non mi apprezzi più non si ecci di più non abbia più desiderio di me cioè sono tutte pensieri latenti che quando poi si palesano creano dei danni clamorosi soprattutto se rimangono esatto rimangono sotto cioè se rimangono muti sì e poi anche perché mi sembra di capire nella vita quotidiana di coppia capita a tutti a 17 anni e a 75 che si non so come poter dire si presume di aver capito cosa pensa il partner non lo si approfondisce non lo si verifica e quindi si reagisce sulla base di un'ipotesi che spesso non si verifica e poi ci sono anche le coppe perché uno dei due ha pensato che l'altro pensava è veramente un circolo vizioso se la cantano e se la suonano da soli si può dire bravissimo bravissimo e poi le coppie si scoppiano come si suol dire magari semplicemente perché non si è avuto la serena richiesta di una verifica di qualche pensiero che uno dei due ha attribuito all'altro e che magari semplicemente domandandolo ci si rende conto che sono uso un termine tecnico che spero che il pubblico mi perdoni seghe mentali esatto ecco anche da questo punto di vista come abbiamo già detto in altri video che abbiamo già reso disponibili sul sito psicura.it ricordiamoci sempre che la mente ci mente e ricordiamoci sempre che parlare con il proprio partner con il nostro amico psicologo con qualcuno che ne sa un pochino più di noi e magari vede il problema dall'esterno e quindi riesce ad abbracciarlo in maniera un pochino più organica è fondamentale per evitare di farsi del male da soldi facendosi le domande e dandosi le risposte come si suolviene o cercando le risposte da qualche altra parte anche cercando su internet e dando affidabilità e senso del vero alla prima fonte non verificata e non autorevole da questo punto di vista l'invito è sempre confrontarsi con chi ne sa con chi ha studiato con chi ha un titolo e con chi per lavoro riesce a darci un parere professionale serio e ponderato esatto ci tengo a concludere con un'ultima cosa che secondo me è molto importante riguardo alle malattie sessualmente trasmissibili perché si è visto che negli ultimi anni c'è un aumento di malattie sessualmente trasmissibili soprattutto dopo una certa età perché allora teniamo conto che più o meno 50 anni ok adesso è l'età tante volte delle separazioni dei divorzi delle nuove famiglie delle famose famiglie allargate delle esperienze che magari si è trattenuto adesso si arriva a un'età dove si vuole approfondire qualcosa di più e comprendere o conoscere tante volte queste esperienze si fanno con l'idea di ok la partner molto spesso femminile è già in menopausa quindi non c'è più il rischio delle gravidanze freghiamocene di tutti i metodi di protezione quindi non si usa più preservativo cosa sbagliata perché questo sì la menopausa cosa fa protegge dalla gravidanza ma non protegge dalle malattie e quindi si rischia di aumentare molto il rischio di contrarle perché praticamente anche se abbiamo rapporti occasionali non perché abbiamo 50 anni le malattie non ci colpiscono ne abbiamo 60 e lo dico a te lo dico a chi ci ascolta è molto più difficile far usare un preservativo un cinquantenne o un sessantenne che a un ragazzo di 20 anni perché c'è un'altra educazione un'altra esatto perché non l'ho mai usato e non lo voglio e non mi trovo ma io mi conosco so cosa devo fare benissimo tutta la tua conoscenza va bene ma le malattie sessualmente trasmissibili ci sono sempre e che tutti conosci che sono terribili non parliamo di pruriti ecco no no possono essere da quelle possono essere quelle un pochino più blande diciamo così a malattie molto più importanti arrivando fino all'AIDS quindi ricordiamoci di proteggerci sempre ok perché non ci rimettiamo solo noi ma andiamo poi a creare danno anche al nostro partner perché si trasmettono a livello sessuale intimo ecco ci tenevo a sottolineare questa cosa è un aspetto che si tende magari a non considerare invece tu giustamente con la tua esperienza ne hai maggior maggior evidenza esatto sicuramente sicuramente hai fatto molto molto bene a fare quest'ultima digressione e raccomandazione Massimiliano io direi che la nostra mezz'oretta l'abbiamo spesa molto bene dando tutta una serie di spunti spero interessanti per i nostri spettatori che naturalmente invitiamo soprattutto se sono arrivati a questo punto del video che sono meritevoli della pazienza e hanno dimostrato un interesse in quello che gli abbiamo raccontato li invitiamo eventualmente o a scrivere le loro domande in calcio al video che troveranno che hanno già trovato perché loro lo stanno guardando scaricato e visto sul sito psicura.it c'è la possibilità di scrivere nei commenti o il vostro feedback o a porre domande se le domande fossero di carattere un pochino più personale un pochino più intimo e quindi non vi viene facile commentare sotto il post e rendere pubblica la domanda potete sempre scrivere a info chiocciola psicura info punto psicura chiocciola gmail punto com e la vostra domanda verrà indirizzata al dottor Mori che compatibilmente con i suoi mille impegni la sua agenda fittissima ci promette che risponderà singolarmente alla domanda che avrete interesse di porvi ovviamente ovviamente sì perfetto io direi che ti ringrazio ancora una volta per questa per questa ora abbondante di tuo tempo e per le tue competenze messe a disposizione dei nostri spettatori ti auguro un ottimo weekend grazie a voi per la prossima registrazione la prossima chiacchierata grazie a te Ivan grazie a tutti ricordo solo che chi invece non volesse scrivere il commento mi può trovare per prenotare una seduta online oppure con una certa differita sul sito psicura.it perfetto abbiamo grazie ancora di tutto grazie a te a presto e buona domenica alla prossima ciao grazie a te